Ora spazio al tennis, in archivio la terza edizione degli internazionali di Tennis Tour Ailava Abruzzo, circuito in tre tappe molto apprezzato dai giovani giocatori. L'ultima tappa, state vedendo proprio le immagini, si è chiusa oggi sui campi del circolo tennis Prati a Pescara, la finale del singolare disputata in tarda mattinata. Avete visto proprio l'ultimo punto tra Luciano Carraro e Luca Castagnola, è stata vinta in tre set da quest'ultimo con questi parziali 6-2, 3-6, 6-1. Ieri invece nella finale di doppio maschile trionfo Abruzzesi ad alzare le braccia al cielo dopo una strepitosa rimonta, l'aquilano Andrea Picchione e il rosetano Giorgio Ricca che hanno battuto al tie-break la coppia formata da Gabriele Marianoce e Filippo Speziali. Dove ho giocato oggi la mia prima finale a livello Futures, è andato molto bene, ho fatto fatica al secondo set, ho iniziato a provare emozioni diverse, a pensare di vincere, ho iniziato a perdere un po' il focus sulla partita, però per fortuna al terzo sono riuscito a trovare il mio gioco e a esprimere un ottimo tennis e sono molto contento. La settimana è stata fantastica, tutto organizzato benissimo.